Cosa fare? Piede perno, tabellata, si lotta. Lì si era visto chiudere la strada, mentre chiaramente la prima intenzione era quella di buttarla fuori. Non ha trovato la luce necessaria per il passaggio. Dulcis è un tiratore, non gli puoi concedere spazio, ma anche se in stagione sta tirando non particolarmente bene. Lanciare in transizione il compagno, rubare metri di campo. Le mani buone non gli sono mai mancate, mentre qui Caserta si rimette un'altra volta a zona. Dulcis, questa volta il tiro da tre non se lo prende, Ruzier, ma proprio quella schiacciata per Peric. Dulcis adesso arriva dalla stessa posizione a prendersi la seconda tripla consecutiva. Tornando dietro chiama anche lui la difesa.